Massimo Negroni, che era entrato proprio sul primo giorno di scuola, era il nostro primo giorno di scuola, lui finiva le prime e è stato importantissimo il lavoro che abbiamo fatto al primo anno, ovvero tutto quello che è la conoscenza dei materiali, l'approccio dell'attrezzatura, quindi il tatto, il tatto, la vista. Quindi sempre guardare quello che uno fa, quello che faceva il maestro si guardava tutto, si toccava e si imparava a filare gli attrezzi, si imparava a riconoscere i legni, tutte le essenze, cosa molto importante perché è l'anno di preparazione alla costruzione, perché se non si ha la dimestichezza nel conoscere l'attrezzo come se fosse il prolungamento delle tue dita, è faticoso costruire, è faticoso capire quello che un insegnante ti sta raccontando e ti sta facendo vedere, perché ti manca la gestualità, la conoscenza proprio della gestualità e della conoscenza tattile dell'attrezzo. Io ho avuto la fortuna di aver avuto insegnanti che mi hanno insegnato così e io ho imparato questo, quindi oltre a imparare a un lavoro, io ho imparato la modalità. C'è da dire che io ho sempre osservato tantissimo, quindi il nostro lavoro è ruba con gli occhi, quindi la vista è importantissima, il tatto è importantissimo, l'udito, l'olfatto, tutto. Però i miei insegnanti erano così, quindi non mi dicevano prendi e fai, mi spiegavano per filo e per segno come tenere in mano un attrezzo. Io con i miei allievi faccio così. Primo anno maestro Negroni, era un iter, il primo anno lo facevo un maestro, dal secondo al quarto, perché nel 1980 erano quattro anni, c'era un altro maestro e io ho avuto il grande dono, perché sono così, perché ora, perché ho avuto un grande maestro, di avere Giorgio C'è come maestro. Io mi emoziono quando parlo di Giorgio C'è, perché a me ha dato tutto. Gli allievi di Giorgio C'è rimangono su allievi per sempre, era un libro aperto e non escludeva nulla. Lui ci ha insegnato dei metodi di costruzione, ma non ci ha detto questo è buono, questo è cattivo, dicendo io faccio questo. Il metodo classico è, ovviamente all'epoca era questo, ispirato alla costruzione stadivariana, quindi con la cassa chiusa, filettatura cassa chiusa, a borde cassa chiusa. Abbiamo fatto il primo strumento con questo metodo, poi ha detto, però possiamo fare anche altro. Sta a voi scegliere. Fate quello che vi sembra più comodo per voi. Però non dimenticatevi mai che questa è la base, quindi sulle basi lui era intransigente. Questa è carinissima, perché quando lui faceva le teste diceva dovete lavorare piano, non dovete avere fretta, dovete togliere il legno fogliolina per fogliolina, queste sono le sue parole. E ogni volta mi viene in mente, perché quando con la sgorbia togli pezzettini piccoli, sono piccole foglie, quindi questo anche animo poetico che aveva era incredibile. E questo non me lo toglierà mai nessuno. Se si parla di filettatura, che è un passaggio molto delicato, che non è solo un'estetica, ma è un'estetica funzionale, perché tutto il nostro lavoro ha una parte funzionale, è una parte estetica, è una parte strutturale. Ovviamente è un lavoro bello, i nostri esercizi sono belli, devono essere belli e funzionare bene. Torniamo alla filettatura. Se io vado a filettare, quindi metto questo bellissimo canalino, questo filetto che intreccia legno, che incontra legno, quindi un intreccio, un consolidamento, se io faccio questo lavoro con attrezzatura meccanica, quando avrò imparato bene a fare una filettatura con una fresa, avrò fatto un canale perfetto. Ma l'avrà fatto la fresa o non l'ho fatto io. Quindi io non ho il controllo, come diciamo prima, dell'attrezzo. Quindi l'attrezzo non è il proseguimento delle mie mani, non sono io che lo sto facendo, qualcun altro, qualcos'altro. E la perfezione sta anche nell'imperfezione. Che poi queste imperfezioni sono illegibili. Le vediamo noi, gli utai che le facciamo, perché noi vediamo da un decimo di millimetro, per noi è una cosa enorme. La luteria non è una questione di genere. È una mia frase storica, lo dico in tutte le salse, lo dico sempre. Non è detto, cioè io se guardo uno strumento non dico, ah questo di una donna, ah questo di un uomo, perché? Il lavoro di una donna porta quello che è una donna, il lavoro di un uomo porta quello che è un uomo. Ognuno di noi porta la propria parte maschile e la porta parte femminile. Ci sono lavori, strumenti fatti da uomini che sono di una grazia, di una eleganza disarmante, come lavori di donne che sono rigidi. Portano quello che è il proprio sentire, il proprio essere. C'è poco da fare. E questa è la cosa importante. Nel manifestare il lavoro. vivere un lavoro di, la liuteria per una donna, per un uomo è diverso. Come in tutti i lavori. Il lavoro di una donna che fa questo mestiere deve fare anche tanto altro. Un uomo può fare anche altro, ma anche no. Quindi è nella vita che è più complicato. è molto complicato quando ha molto. Può essere complicato quando una donna dice davvero dei figli. Quindi sacrificare la vita, un certo tipo di vita per, mi viene in giù la lacrima, del tempo, ecco. Io ho avuto una figlia, avevo 31 anni quando ho avuto mia figlia e ho chiuso la ditta per qualche anno. E quando l'ho riaperta, nel frattempo ovviamente lavoravo comunque. Invece di avere la partita IVA e fatturare come prima, fatturavo a prescindere facendo vendita occasionale, però ho sempre lavorato come sempre. però quando io sono ritornata in carreggiata, quindi competitiva, il mondo era cambiato. E' come se io avessi dovuto ricominciare da capo. Ho perso tutta la mia clientela. E non mi riconoscevo. Cioè, in un mondo dove ovviamente ho perso un treno di quattro anni. E non è così semplice. E' come se io avessi dovuto ricominciare da capo. E' come se io avessi dovuto ricominciare da capo.